Siamo in preparazione per la trasferta che ci aspetta verso la FIDI di giugno in Irlanda, Dublino, per il campionato del mondo WUKF, ci teniamo a specificare perché ci sono diverse federazioni a livello internazionale, dove ci si svolgeranno i campionati del mondo e la Coppa del Mondo Children, dove potranno partecipare tutte le fasce di età. Per quanto riguarda il campionato del mondo dai cadetti ai senior master ci saranno le convocazioni della federazione, per quanto riguarda le categorie Children ci sono delle selezioni che vengono fatte con punteggi assegnati tramite gare, allenamenti e stage e una selezione da parte della direzione federale che permette ad alcuni atleti di poter partecipare a questa gara internazionale. Ovviamente gli atleti convocati dalla federazione saranno spesati dalla federazione, mentre i Children verranno a loro spese, però avranno la possibilità di partecipare a questa gara internazionale, dove vede la partecipazione di moltissimi nazionali provenienti da tutto il mondo, dall'America, dall'Asia, dalla Russia, dall'Europa, dall'Africa. Quattro sono i nostri ragazzi che parteciperanno a questa manifestazione internazionale nella categoria Children, mentre io e Diego Santos parteciperemo come atleti rappresentanti della nazionale nella gara di campionato del mondo. Sono Diego Santos, ho 18 anni e abito a Gromo e sono nella nazionale da quasi tre anni e parteciperò anch'io a questo campionato del mondo in Irlanda a giugno. Non farò la gara di kata, che è la forma, ma farò solo la gara di kumite, farò la gara individuale a squadre e anche rotation. Io combatto nella categoria Junior, che va da 18-21 anni, sotto i 70 kg. Mentre per la squadra e per quanto riguarda la rotation, che è un'altra tipologia, non ci sarà limite di peso, ma ci saranno da 18-21 anni per tutti i pesi, i ragazzi di ogni peso in pratica. La mia preparazione si svolge qui in palestra tre sere e settimana, però poi mi alleno tutti i giorni a casa mia, faccio diversi allenamenti, tra cui anche corpo libero solo per potenziamento fisico, preparazione atletica, corsa, montagna. Qui in palestra mi alleno con il karate, diciamo, sulla parte tecnica e fuori con la parte fisica. Mi chiamo Larisa Stoica, abito a San Lorenzo, ho 12 anni e pratico karate da 5 anni. Mi piace karate, mi piacerebbe andare ai mondiali. Mi chiamo Micaela Papetti, ho 10 anni, abito a San Lorenzo e pratico karate da 5 anni. Sono felicissima di andare ai mondiali. Io mi chiamo Daniele Beccarelli, pratico karate da 5 anni, indosso la cintura blu e mi piacerebbe andare ai mondiali e di fare un bel risultato, perché mi dà soddisfazione almeno arrivare sul podio. Mi chiamo Lorenzo Filisetti, ho 12 anni e abito a San Lorenzo, indosso la cintura verde e sono felicissima di andare ai mondiali. Durante questi ultimi mesi ci stiamo preparando moltissimo, anche perché sarà una soddisfazione grande andarci, perciò è meglio andare ai preparati.